Abbiamo appreso da un'ora del decesso e del passaggio di Papa Benedetto XVI. La comunità cattolica della nostra isola ovviamente è addolorata. Abbiamo pregato in questi giorni, come ci ha chiesto Papa Francesco, perché il passaggio incontro al padre di Papa Benedetto fosse non solo sereno, ma fosse accompagnato dalla corale preghiera della Chiesa. Siamo grati al Signore, ma siamo grati anche a Papa Benedetto per il sì che ha detto, i tanti sì che ha detto nella sua vita, a cominciare dall'accoglienza della sua vocazione sacerdotale fino all'ultima accoglienza della sua vecchiaia e avendola accolta ha lasciato il sogno di San Pietro. Gli siamo grati per tutti questi sì che hanno significato insegnamento della teologia, ministero pastorale, ministero episcopale, aiuto a Papa Giovanni Paolo II nella congregazione per la dottrina della fede e poi servizio petrino alla Chiesa Universale. La sua mente lucida, il suo cuore è pieno di affetto per il Signore e di amore assoluto alla Chiesa. Ci ha non solo insegnato e introdotto sempre di più nel mistero di Gesù, di Cristo e della Chiesa, ma ce li ha fatti amare. I suoi grandi volumi che ha pubblicato anche da Papa su Gesù di Nazareth ci hanno voluto presentare l'incontro vivo con questo Gesù, amarlo, farne il punto centrale della propria esistenza. Adesso sappiamo che Egli ci è vicino in modo diverso, continua a pregare per la Chiesa e per l'umanità intera in modo nuovo, accanto e con Cristo nel seno del Padre. E' per questo che noi veramente ringraziamo Dio per averci fatto questo grandissimo dono. E insieme a tutti i Vescovi di Sicilia, desidero ancora una volta elevare preghiere, lo faremo penso a breve in tutte le parrocchie, in tutte le Chiese, in tutte le cattedrali, e apporgiamo le nostre condoglianze a Papa Francesco e alla Santa Sede.